tantam 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 felicemente drop out si forse solo outsider uno spaventa passer in mezzo a spaventa passerivo e uno spaventa da poveri sur un passer solitario oggi un dromedario domani un lambadario è tutto un sudario altri che sussidiario immarginato volontario drop out chi rifiuta schemi e convenzioni della società ponendose nei margini se io vivo al confine confine dell'immaginazione confine l'interzone come un pasto nudo di kronenberg e anche di burks anziché inserirmi socialmente sempre più io lo inserisco solitamente solitamente lo inserisco solitamente se le donne sono di grassi odio tutte dunque assai solidale vanno in brodo di giuccele col mio gengillo da loro ribattanzato sicil fra napoletane napoletane pescono la besciavella del mio ragù caldo e bresciane che tifano per la puttanesca fra talandine e juventine sono vendendomi cidiani di parabole balistiche e indusiasmanti fatte gli scherzi se non sono mai io a escludere gli altri sono sono non sono mai loro a escludere me sono io che escludo loro è sempre stato così gli altri gradiscono la mia compagna ma io gradisco invece loro compagni a che si creano imbarazzate disagi al mio amico sta simpatica sua moglie sul culo in ogni senso e non è mai conveniente per un'amicizia duratura avere di mezzo la donna che ti fa come dice totò del turco napoletano ti fa tutta la stiratura del tuo amico a cui piace molto che sia duro non solo caratteramente no 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 un po va bene ma poi mi rendono fianco più che altri ti figgano nella causa di divorzio e devi fotterti anche il mantenimento dei figli del cornuto a parte la cazzata per le supercazzo per cui sono oramai famoso anche presso le formiche dei marciapiedi di via bernazza vicolo cieco e piazzata la tua vita da tempo mi stia piacendo molto questo da pannesher tutto 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 superiore perfino alla prima stagione pura violenza nella sua migliore estetizzante figata feccante feccante sia a volte pare manichè prevedibile personaggi sono tagliati con l'accento ci sono troppi morti ammazzati e sbudellati ma poi si riprende come nello splendido finale dell'episodio 4 for tessuto cicatriziale che patos che emozioni e or che succederà a bilirussa ammazza la poveretta che continua a sperare in una sua retenzione salvifica diciamo lo vuole salvare in extremis no non espirà espirà nessuna colpa e se l'ingropperà scassenandola la cassaforte e da quale crorgo plassica andrà dopo aver perso la faccia dall'avversaggista delle dive come diceva nello e le storie tess si spinge spacca e pochi altri tutto spaccato amber rose riva 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 nella parte di madame dopo circa 20 episodi non ha ancora capito se gnoccano è come ladybug e l'ex pornostar ryanon ray ryanon bray tutte queste tre hanno culo magnifici e soprattutto la ray guardate nei film big white ass se sono degli uomini so proprio la loro ambiguità androgina a renderla rapante a volte mentre guardo questa qui amber mi diventa di marmo invece guarda revenant non mi diventa proprio per niente poi lo osserva meglio mi pare strabico forse lo strabico sono io sì ecco se non sbaglio c'era anche quell'altra pornatrice amber rose altro culo superbo non deve avere un gran cervello ma questa amber sicuramente vi è bene per luce tale madari mi ricordo una certa mia amica delle elementari mi incuteva paura quella bambina soggezione come si suol dire di cognome faceva sapienza sì non sto scherzando era una secchione molto ambiziosa adesso forse sarà un avvocatesso come madari comanderà vertici della polizia insomma non è una della polizia è lei che la repolisce tutta se i crismi della futura donna in gamba c'erano già all'epoca eh sì 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 cazzuta un mostro uno che prende il tuo manganello e se lo suona con tanto di distintivo che fa vermente al top alla blu steel soprattutto a blu stolit alle scuole elementari venivo paragonato a lucas aas azz di scarlatti fu anche associato a fissi ogni amica vedri thomas dieti l'ex terrone beh guardate che non era un'offesa avendo avuto 12 anni era un paragone di tutto rispetto eh sì sì era eh da andarne fieri sono passato eh sono passato alle orecchie a sventola alle sventola anche se talvolta solo bandiera bianca sventola anzi quasi sempre sventolando fu dopo che avvenne il peggio si mi dissero che era un alieno buono e ho detto tutto non era una situazione piacevole sembra vero signore a vent'anni non guardavo quelle della mia età ma mi accettava da morire a Shannon Twitter che ne aveva il doppio se la moglie di quello del cantante da kiss 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 un pezzo da passerone per come dove andava retta la stanza i miei ormoni tramavano come al massimo grado la scala recta mia nonna invece era molto religiosa se 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 pudica è un miracolo che sia nato io da sua figlia no quando guardavo un uomo che non quando guardavo un uomo non provava alcun movimento tettonico da scala mercalla ma comunque sapeva come leccare al mercato per avere le banane gratis comunque possiede un don che altre alla mia età non hanno si dice da solito che una volta diventati grandi non ci si ricorda più niente di quando si era bambino perché si diventa tutto dei porcellini la donna poi si fissano solo con le piastrelle con la mattonella di porcellana e invece mi ricordo tutto mi ricordo della storia infinita mi ricordo se mi ricordo mi ricordo di quelle che lo guardavano ed è per questo che alcune leggendo i miei libri mi paragonano a Stephen King anche lui ha questo dono è un uomo stand by me ma quella è la canzone fatta e strafatta ma scrive di ricordi infantili come se avesse otto anni un vero cuore in Atlanta se il falotico non è un king egli è da prince non il cantante deceduto ma Will Smith Belair Belair è un suo diritto a vivere fuori dal mondo è dentro quello che sapete benissimo è dentro quello che sapete benissimo quando viene troppo quando viene troppo no troppo responsabilizzato cade in anticuta depressione invece libero ragione scrive da 10 sapete la verità senza cazzo per la testa e cazzo ma che una meraviglia sta benissimo in una zona franca senza schemi senza stereotipi senza obblighi formali nudo e crudo come mamma l'ha fatto oggi a guardarsi da punish domani a mettertela fidatevi non mendo mai al massimo malattico ai passeggio senza passeggio ah no no non avrò mai figli non so educare me stesso figurarsi se voglio educare miei figli alla società oggi è veramente un po' porcilla io ho detto a tutti finalmente da punish ad altri che salem promesse sposo compromesso sposo e troiata italiana una bella serie che spacca questo pariscire vent'anni fa volevano sbattermi a castiglione della staviera ti faccio capire come sta il mondo sui come no assieme ai matti dimmi io sono solo un castiglione diciamoci probabilmente talvolta anche il coglione e mi piace ancora molto quella nata come si chiama città di castello se morico balluccio ottimo maglione non è grande attrice siamo obiettivi ma uno che può servire come tiramisù si con morico vorrei essere davvero alla frutta quando dicono sei arrivata alla frutta per fortuna perché si sa dopo dopo la frutta viene il liquore ed è buono sosteggiare di gran sapore anche se poi devi lavare tutto il sapone è tutto bevi tutto in bocca ed è tutto torbale di schiume con da di Borocalco ahahahah ahahahah ahahah ahahah ahahahahah mereka �ie m Claro